benvenuti in un podcast di voci in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco in mondi affascinanti ed immaginari un podcast di appassionati curiosi e sognatori un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace io sono antoni benvenuti su gente di ruolo ed è finita la primavera perché abbiamo finito il mazzo passiamo l'estate giusto adesso nascondo il mazzo della primavera e tiro fuori il mazzo dell'estate stesso giro di prima estraiamo quattro carte e le scartiamo tra le carte tra le carte da scartare deve esserci il k quindi ne togliamo tre se il k non è uscito ci fermiamo e quando lo estraiamo lo ignoriamo come quarta carta ok devo estrarne tre allora e buttarle giù facciamo a turno giusto per così non ci ingasiniamo prendo una la butto giù dario un io hai preso l'otto vero no preso 5 ok quindi un 5 un 8 adesso tocca a me il 2 perfetto e basta adesso iniziamo a giocare chi estrae il k lo ignora e ne prende un'altra al posto ok estraggo allora giusto vai va bene allora estate un contingente all'interno della comunità chiede di essere sentito chi sono e cosa chiedono oppure un contingente dentro la comunità ha agito sulle loro frustrazioni cos'è che hanno danneggiato e perché l'hanno danneggiato è una cosa permanente ok andiamoci piano calmi calmi prendo un token scontento allora secondo me chi vuole essere sentito è il gruppo pacifista dentro o addirittura sapete cosa non voglio prendere parti perché per adesso ho mosso un po le cose per il pacifismo comunque giro la cosa in tavola secondo me quelli che si fanno sentire sono i guerrafondai magari quelli che seguono un po invece che la ragazza la giovane ragazza il vecchiaccio che ha ammesso che è colpa di crimini di guerra contro i sciacalli eccetera si fanno si vogliono far sentire nel senso vogliono armarsi ok e in realtà ho risolto la carta giusto sì e cosa domandano vogliono armarsi ah vogliono armarsi quindi ok in vista dell'altra comunità eccetera eccetera ok va bene poi devo aggiustare le dice allora il mio progetto finisce dunque devo ricordare lo posso anche subito risolvere in realtà visto che è il mio turno ci togliamo la la mancanza degli strumenti metallici che però non diventa un abbondanza semplicemente ci togliamo dalle scatole il discorso ok e dunque lo cancello da dalle risorse non è una mancanza non è un abbondanza e ribadisco viene viene utilizzato o dite che va usato va fatto un nuovo progetto per per creare questi strumenti o aggiustarli perché è un conto trovare la le cose mi sembra che quando abbiamo stabilito la lunghezza si diceva che la lunghezza fosse proprio per annullare la scarsità ok dunque si si trova si trova le risorse sono dei depositi addirittura magari nella caverna che sia che sia sbloccato in qualche modo questi depositi di superficie vengono acceduti e si utilizza il calore del vulcano per per sciogliere il metallo in qualche modo e poi dopo lo si utilizza nella sua forma grezza per fare dei lingotti eccetera eccetera ok dunque penso che ci si crea si crei una specie di forgia lassù alla base del vulcano ok poi dopo devo abbassare anche gli altri progetti non mi dimentico allora sta per finire il progetto quasi quello dell'elettricità e dunque con questo tra un po' comunicheremo con l'altra isola e devo fare una cosa devo prendere un'azione sto pensando ok dai faccio partire una discussione allora la discussione che faccio partire è ragazzi dobbiamo armarci non hanno un'arma anche loro dobbiamo dobbiamo armarci dobbiamo utilizzare la nostra arma non solo per fare energia ma dobbiamo ristabilirla come arma io ho detto passo passo a voi dunque io ho fatto un'affermazione non posso più dire Dario sono d'accordo ma l'energia viene prima le armi vengono dopo dobbiamo armarci ma io ho più paura di comunicare prima di essere armato ok e ho finito ok prendo una carta tutti i dati sono stati aggiornati sì la miseria continua a creare linee ogni volta l'estate è il tempo di produrre e di occuparsi della terra inizia un progetto uh relativo alla produzione di cibo oppure c'è stato il tempo per conquistare e la pussanza inizia un progetto relativo alla prontezza militare la conquista per forza quando le carte ti ascoltano ok allora scelgo il secondo poi tecnicamente aggiusta i dati quindi oppure cioè quando te lo dice la carta di iniziare un progetto lo inizi subito nella relazione della carta ok quindi è un extra tecnicamente ok l'unica cosa è che se lo piazzi perché te lo dice la carta comunque non avanza nella fase successiva ok l'ordine 1 tocca la carta 2 avanza i dati ma non quello lì ok io direi che si inizia il progetto nell'entroterra perché non si vede assolutamente nulla con questo colore per delle armi al plasma mi ha raggi di pesca con le armi al plasma è fantastico anacronistico al massimo la barchetta con la vella di cotone e ok quindi sono dei derivati sostanzialmente della esatto che si trovano a metà tra la struttura e la cava ok secondo me non ci metterei tantissimo secondo me è un 4 o 5 guarda che la cava però era cioè ci ha dato quel che ci serviva per fare attrezzi di base di metallo sì sì appunto cioè estrazione di base dei materiali in quella zona lì semplicemente e l'utilizzo dell'energia è di per diciamo secondo me proprio perché dobbiamo passare dalla materia grezza a un'arma abbastanza tecnologica cioè dobbiamo combinare le due cose allora sicuramente ci metti cioè devi includere che deve ancora venire l'energia dal portale e poi secondo me comunque è abbastanza impegnativo nel senso io faccio un'altra domanda ma ce l'abbiamo già al progetto di quest'arma o dobbiamo inventarlo perché se dobbiamo inventarlo direi che è in due fasi secondo me c'è e che semplicemente è un qualcosa che non è utilizzabile al momento perché non c'è ancora l'energia quindi si sta capendo come ok 5 o 6 5 o 6 secondo me sì Antonio quando ci abbiamo messo scusami a riattivare il portale mi pare 6 6 potrebbe essere altrettanto ok ci sta io partivo dall'idea è più del portale perché il portale è qualcosa che almeno già esisteva bastava aggiustarlo qui bisogna come dire costruire proprio da zero qualcosa che prima non c'era adesso che abbiamo gli strumenti potremmo pensare di farlo sì sì ok ci sta un mese e mezzo per per far sta cosa dopodiché aggiusti i progetti yes il portale viene effettivamente sistemato beh quel quell'uccellino diventa sempre più colorato effettivamente si riesce ad attingere adesso all'energia pa 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 progetto qualcosa di nuovo progetto qualcosa di nuovo progetto qualcosa di nuovo il faro è sì il faro è a uno perché era uno avanti rispetto al portale perfetto yes faccio partire un progetto per il quale i nostri data l'utilizzo dell'energia e tutto quello che ne potrebbe derivare vogliono cominciare a creare dei rifugi sicuri in superficie perché il malcontento rischia di degenerare infatti già solo il fatto che mi avvii questa cosa rimuove del malcontento da parte mia secondo me in tre settimane possiamo cavarcela sì pensavo anch'io tre adesso con i tools l'elettricità sì 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 la tecnologia la pancia piena esatto we got the knowledge we got the power le linee improvise di Dario un tiro ogni singola volta ok finito il mio sei di quadri ricordatevi sempre del k che dobbiamo ignorarlo allora arrivano degli stranieri nelle a nell'area perché sono una minaccia e come sono vulnerabili oppure degli esterni arrivano nell'area quanti e come sono accolti allora domandone ok ce l'ho i stranieri arrivano nell'area quanti uno e sostanzialmente questa persona lo troviamo naufrago sulle sulla sponda dell'isola non è uno di noi ed è il primo straniero che vediamo da da molto tempo perché è pericoloso no non è la parte sopra la parte sotta come viene accolto ok non è pericoloso ok quindi una straniera arriva nell'area quanti e come sono accolti quanti uno come sono accolti e molti pensano che sia una spia proveniente dall'isola meridionale e quindi è accolto con con molto sospetto e viene probabilmente come dire curato perché abbiamo i sali guaritivi e vincolato nel senso che tipo è sempre sotto scorta di qualcuno si tiene d'occhio chi è cosa fa per adesso probabilmente non riusciamo a comunicare con lui ok dunque strago prochain card vediamo aspetta 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 ah scusa comunque non importa però è il k e quindi lo ignoriamo ok ho fatto la carta aggiusto i dadi e qui Nilo concludi il progetto del faro abbiamo uno straniero e nel frattempo a pochi giorni riusciamo a comunicare vai dimmi cosa succede il faro funziona siamo grazie anche all'elettricità siamo riusciti a comunicare con l'altra isola e voglio risparmi di uno scontento dunque faccio una cioè svelo una cosa un po' scomoda gli altri sull'altra isola che hanno anche loro un'arma sono gli sciacalli poi dopo lo disegno ci penso non voglio un cadinde in generale voglio uno sciacallo cioè ci penso devo googlare furiosamente come fare uno sciacallo come stick figures però vabbè comunque è un cane sotto metanfetamine dunque allora devo aggiustare no semplicemente ho finito ok ho finito il mio progetto perfetto va bene ok dopodiché tocca a me prendere un'azione yes e adesso allora apro una discussione perché perché se quelli sono gli sciacalli dobbiamo prendere una decisione cruciale sul cosa fare sono gli sciacalli dovremmo dovremmo riaprire la guerra possiamo fidarci di loro sono due domande ma sono gli aspetti diversi della stessa domanda c'è la parte della comunità quella più pacifista che tra l'altro ha accolto anche bene il naufrago eccetera eccetera dice che non sappiamo nemmeno se la loro arma è attiva non ripetiamo i peccati dei nostri dei nostri padri siamo in pochi la vita sopra ogni cosa io direi di muoverci con cautela e e vedere cosa fanno loro e su questa linea d'azione apro un breve progetto che è capire capire chi è quel naufrago capire cosa sa degli sciacalli ok domanda si può sia fare la discussione che avviare il progetto no scusami 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 ok sbagliatissimo è vero mi sono perso tra il progetto finito di Nilo che ha interrotto il mio e ho perso il conto delle cose ok quindi apro un disegno un puntino per rappresentare la discussione di fianco allo sciacallo di Nilo cos'è quella roba che ho messo il altro non lo so vabbè comunque è evidentemente uno sciacallo Nilo ok devo estrarre una carta è uscita sì forse 4 è uscita è uscita allora sempre state il più vecchio tra di voi muore che cosa ha causato la sua morte oppure il più vecchio tra di voi è malato guarirli o accudirli richiede l'aiuto di tutta la comunità e non ridurre i progetti i dadi progetto per questa settimana secondo me muore il vecchiaccio quello guerra da fondaglio con i crimini di guerra e muore penso fosse già morto è morto? la sua era stata una confessione una confessione prima di morire ah ok posso fare una cosa un po' secondo me muore il suo war buddy ok un altro vecchiaccio della comunità ci sarà stato un come dire probabilmente non era l'unico della sua generazione cioè lui probabilmente ci sta che abbia scoperto sì dunque è un suo vecchio compagno di guerra perché è vecchio ha visto anche lui la guerra che da quanto ho capito è stato tipo cataclismica però vabbè lui comunque faceva faceva parte della fazione di guerra fondai e muore in circostanze a dir poco molto cioè sospette mettiamola così cioè si dice che ci sia del foul play dunque potenzialmente è stato un omicidio ma non si sa chi è stato io prendo lo scontento perché questa cosa ci sta tutto spiazza molti ci sta tutto devo aggiornare i progetti se non sbaglio sì plus side sta finendo il progetto del del rifugio e poi dopo plus side anche qua le armi stanno progredendo e ne avvio anch'io uno ed è l'interrogazione del 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 naufrago addirittura c'è chi lo addita per per la morte del nostro anziano vai secondo voi beh un'interrogazione cioè dovrebbe essere breve un turno quanto lo chiamano ok per quanto parli uno strano dialetto e cose del genere insomma una settimana beh effettivamente quello potrebbe essere un ostacolo però sì una settimana secondo me per capirsi dovrebbe bastare e poi devo disegnarlo buona fortuna a me questa è dura disegnerò una gabbia così e mi sa che io ho finito giusto? sì yes cart jack uh predatori e cattivi presagi sono in moto a te sei careless non te ne vedi non te ne preoccupi e qualcuno scompare in terribili circostanze chi? uh oppure predatori e cattivi presagi sono in avvicinamento quali misure prendi per tenere tutti in salvo e sotto sorveglianza non ridurre i progetti questa settimana ok eh faccio lo stronzo vai vai posso dire che questa isoletta mi sembra fin troppo fin troppo tranquilla no no in realtà faccio lo stronzo opposto perché il concilio di coloro che chiudono tutti quanti nei rifugi stavate facendo i rifugi fuori no tutti sotto terra stronzi il pericolo è sull'isola qui c'è un problema le armi non sono ancora perfettamente pronte bisogna bisogna reagire con saggezza e cautela quindi un lungo respiro sottoterra una settimana a studiare il mondo esterno dal rifugio sotterraneo quindi non si abbassano i progetti per questa settimana come azione ah scusate non si abbassano come azione inizio il dialogo inizio una discussione e la inizio con una domanda secondo voi la ragazza parla davvero con il vulcano ah devo iniziare eh ho iniziato io Antonio iniziare l'ordine eh secondo me parla con qualcuno sicuramente che lei crede essere il vulcano mentre c'è proprio della gente che crede che questa qua parla con il vulcano letteralmente e che dunque sappia cosa il vulcano vuole e che dobbiamo ascoltarlo perché sennò scoppia e basta qui direi posso aggiungere una mia dichiarazione finale giusto sì sì se tu inizi con la domanda tu puoi finire con la tua risposta che è mandatoria cioè nel momento in cui io ascolto voi ed esprimo la mia opinione finale è così oppure no no è la tua opinione vale come la nostra e non si è capito niente alla fine di cosa si è deciso ok perfetto secondo me parla con un'entità superiore grazie il mazzo mi dice che che devo mescolarlo l'ho mescolato tocca a me 10 dell'estate allora scopri un cash un accumulo di risorse o supplies non saprei cos'è aggiungi una nuova abbondanza oppure una scarsità non è stata come dire non è stata risposta per troppo tempo inizia un progetto per alleviare una scarsità si supplies risorse o provviste provviste sì perfetto allora mi sa che ci siamo dimenticati di aggiornare la scarsità di vento ma ci sta nel senso che noi adesso abbiamo l'energia ma non abbiamo mai non l'abbiamo mai applicata per poterci muovere da qui nel senso che il progetto era forse anche indirizzato bene o male a quello a quella scarsità ma poi ci siamo persi via con le armi e roba del genere ma adesso bisogna muoversi quindi apro un progetto per sostanzialmente mettere il motore alle navi ok secondo voi quanto siamo familiari con questa tecnologia e possiamo farlo agevolmente immagino comunque che sia una nave abbastanza grande quindi una cosa grossa io metterei una settimana meno delle armi come difficoltà sì le armi cioè adesso quindi un 3 oppure le armi iniziato a 5 facciamo un 4 no secondo me un 3 perché alla fine l'utilizzo dell'energia ha delle basi comuni semplicemente per le armi bisognerà riuscire a canalizzarlo un po' meglio però possiamo già prendere quello che abbiamo scoperto sulle armi e applicarlo alle navi è una cosa molto più grezza sicuramente del fare un'arma al plasma come dire una motorizzazione per le navi ci sta quindi metto 3 settimane e poi disegnerò il motore poi aggiorno i progetti e adesso che siamo tornati fuori dal rifugio finalmente chiudiamo il rifugio all'esterno a te Dario dire com'è finita finisce bene rifugi fortificati con energia che permetta di viverli anche nelle ore notturne in serenità immagino magari delle recinzioni sorvegliate fari tutto quello che può rendere sicure le persone in una permanenza all'esterno ottimo poi si conclude l'interrogatorio Nilo sta a te decidere come si conclude si conclude inconclusivamente nel senso che gli animi sono un po' bollenti c'è chi gli vuole semplicemente parlare a questo tizio mentre altri che lo maltrattano addirittura lo torturano forse in assenza delle altre persone e si sa che la tortura non serve a niente in un interrogatorio nel senso la persona ti dirà esattamente quello che gli vuoi far dire a un certo punto e dunque salta fuori che si è un sciacallo eccetera conferma tutte le peggiori paure della comunità alimenta quelli che vogliono fare i guerrafondai e cose del genere addirittura lo maltrattano fino al punto che gli fanno ammettere che è stato via uccidere l'anziano anche se non torna nel senso come hai fatto eri comunque isolato eccetera non torna però ok quindi non abbiamo non abbiamo verità e tre per le armi e rimane in prigione tutto lì ah ok a questo punto faccio un'azione e e sto facendo il gioco dell'impiccato con il prigioniero disegno la corda scopro qualcosa di nuovo cioè sembra che l'isola degli sciacalli sia improvvisamente ferma ci segnali le comunicazioni queste cose tutto tace ok il villaggio sembra abbandonato per quel che possiamo vedere noi e ho finito ok tocca a Dario sono confuso vabbè dunque devo estrarre una carta giusto estraggo estate introduce un mistero sul bordo della mappa oppure una situazione che è stata lasciata stare per troppo tempo diventa problematica o paurosa qual è cos'è che va male com'è che va male dunque per rispondere a questa carta iniziano a sparire delle persone anche sulla nostra isola abbiamo detto che sono spariti o sembrano essere spariti gli sciacalli incominciano a sparire persone tipo membri di famiglie cose del genere un po' sparsi in tutte le famiglie e spariscono vediamo ho risposto a tutto si ho risposto a tutto segui t'altro no va bene ok ho risposto a tutto come faccio a disegnarlo non lo so ci pensano dopo dei punti di domanda devo aggiustare i dadi esatto dei punti di domanda grazie devo aggiustare i dadi dunque sta finendo il progetto delle armi e va avanti il progetto dei motori e devo fare un'azione sto pensando allora noi ok faccio partire un progetto un po' così un po' fuori di testa la giovane quella con i sali eccetera che parla con il vulcano il giovane profeta esatto si mette a cercare di invocare la pioggia no aspetta il vento il vento il vento e con questo la pioggia probabilmente perché siamo in estate dunque forse è un po' secco ci manca il vento che ci porta le nuvole eccetera dunque si cerca di invocare il vento dunque cerca di ovviare la mancanza di vento ok ok non so se funziona non so se effettivamente questo vulcano ci ascolta quanto potrebbe durare secondo me questo progetto cioè che finisca bene o che finisca male secondo me è una settimana cioè eh Antonio? cosa coinvolge questo progetto cioè tipo è lei che canta e danza per una settimana oppure deve sgozzare qualcuno e bagnare il vulcano col sangue di una cioè ci sto pensando no non penso perché forse la durata proprio è una cosa che tipo lei sa cioè lei dicevo devo cantare per un anno o per un mese per sai cos'è sta anche sparendo gente dall'isola infatti secondo me non ci mettiamo poi tanto a scoprirlo aspetta più che altro aspetta forse due settimane cioè due turni ci sta perché magari un turno per le invocazioni e così poi un altro per vedere ma succede qualcosa o no ok così ci sta la gente la guarda e lei fa sì ci metto due settimane ok sì più o meno dammi un'età e ci metto due settimane ok e ho finito bene questo è finita l'estate se mi date una mano a controllare se in tavola effettivamente abbiamo tutte le carte 6 7 8 9 10 11 12 carte yes ok no ce n'è uno in player sense che non so di chi sia perché nessuno ha carte in mano ok bene ne manca una allora quindi fa estraggo sì ok ah ok si un progetto finisce prima se non ci sono progetti no però in questo caso ci sono progetti secondo me un twist sulle armi le sparizioni le sparizioni conducono a ricerche più approfondite e serrate si fa qualche notata in più si giunge alle giuste conclusioni le armi vengono finite in notevole anticipo con un po' di fortuna we've got weapons poi aggiusto comunque i dadi i motori e a questo punto scopriamo qualcosa di nuovo io dico che scopriamo qualcosa di nuovo perché a largo oltre le fitte nebbie che ci tormentavano ad ovest dell'isola viene avvistata più di una volta una grande nave ok e abbiamo finito l'estate quindi chiudo il mazzo dell'estate mostro il mazzo dell'autunno stesso giro di prima quindi tolgo una carta a te Nilo io sto ancora disegnando il mio circolo rituale però lo lascio lì tiro fuori carta vediamo cosa succede e questa è la prima carta d'autunno no no ma è solo per togliere le prime carte ah ok fatto fatto continuo il mio circolo rituale è importante Dario tolto 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 tolgo una anch'io così ne abbiamo tolte quattro fatemi controllare adesso ok quattro in tavola nove nel mazzo faccio uno shuffle e tocca a me giusto? yes un cappa di fiori siamo in autunno un disastro naturale colpisce l'aria scegli uno vi concentrate nel portare tutti quanti al riparo rimuovi un'abbondanza e un progetto fallisce vi concentrate nel proteggere le scorte e il duro lavoro a qualsiasi costo molte persone nell'isola muoiono no non siamo pronti a morire siamo in pochi e molto attaccati a quello che abbiamo nonostante le nostre come dire le nostre differenze quindi perdiamo un'abbondanza potrebbe essere il cibo anzi sì perdiamo il cibo perché ci interessa di più dei sali quali vuol dire che diventa una carenza però giusto semplicemente diamo l'abbondanza corretto rimuovi un'abbondanza no non è più un'abbondanza e un progetto fallisce e fallisce il rituale perché contro la loro volontà però vengono tutti quanti evacuati perché sta arrivando questa tempesta incredibile secondo me allora ci credono che ci sono riusciti la domanda è fondamentale che disastro naturale è secondo me è una specie di tifone tropicale qualcosa che spazza l'isola per giorni e giorni e come dire minaccia di cancellare qualsiasi cosa il problema è che loro credono che ci sono riusciti magari ci sono anche riusciti un po' fuori tempo eccetera però dopo di che non risolvono la carenza di vento ha giusto i dadi quindi il classico il classico tipo monzone che viene distrugge passa calmo ok ho capito ha giusto i dadi quindi finiamo il motore della nave probabilmente dopo questa enorme tempesta siamo capaci di muoversi di muoversi nel mare quindi riusciamo a come dire bypassare la carenza di vento e adesso inizia un progetto penso sia uno dei pochi progetti che ho iniziato mai abbiamo i motori urge andare a capire cosa è successo agli sciacalli abbiamo le armi abbiamo la nave andiamo di là e scopriamo cosa è successo non è una missione di invasione però partiamo armati quindi quanto ci mettiamo ad andare ad esplorare l'isola per capire perché di colpo tutto è misteriosamente silenzioso per me ci potrebbe stare un due settimana per un po' di anche diciamo per una cosa fatta anche con un po' di cautela quindi fare un po' di giri prima di attraccare ci sta varie varie spedizioni avanti e indietro l'indagine di mezzo sì e poi c'è quel dubbio ma è ma è un trappolone e quindi ok e con questo io ho concluso il mio tour tu come me? sì allora esce autunno il raccolto abbondante aggiungi un'abbondanza oppure i venti freddi dell'autunno scacciano i tuoi nemici rimuovi una forza pericolosa o minacciosa dalla mappa e e dall'area essenzialmente allora sto pensando noi abbiamo appena rimosso il cibo come abbondanza giusto? però sto pensando che potrei anche perché perché c'è quel loro hanno un'arma i sciacalli dunque sto pensando che cosa fare in realtà abbiamo già una spedizione lì sai che cosa dunque dice di letteralmente aggiungere un'abbondanza o di rimuovere un pericolo secondo me questo questa tempesta che è venuta che poi se n'è andata stanno scoprendo le la nostra spedizione che è andata a vedere dove sono gli sciacalli ha distrutto o ha danneggiato il loro il loro cerchio quello il loro com'è che l'abbiamo chiamato il nostro quello che produce energia una specie di portale dcd2 non l'abbiamo mai chiamato hanno distrutto la loro arma ok tutto lì nel senso che è diventata si vede che non è attiva è distrutta è danneggiata quindi i sopralluoghi dicono che è rotta con me tutto il resto per adesso ok grazie ci hai fatto sopra tutto il disegno non lo dovevo fare io poi allora devo aggiustare i dice abbasso l'esplorazione di 1 ok non abbiamo altri progetti no non abbiamo altri progetti in corso al momento ok dunque devo fare partire un progetto penso e il progetto è cercare dove sono finiti cioè dove sono finite le persone sparite sulla nostra isola li avevo perso dopo devo devo fare un progetto e cercare le persone sparite sulla nostra isola cioè indagare dove sono letteralmente rastrellare le isole e cercarle potenzialmente abbiamo appena mandato una spedizione l'isola è grande addirittura è più grande di quella degli sciacalli dunque potrebbe durare un po' di tempo secondo me più di due settimane tre l'isola è grande siamo molto dispersi tra il portale il faro quelli alle miniere di sale i vari buchi che abbiamo fatto ci sta che sia un po' lunga come indagine ok dunque faccio da tre va bene e poi lo disegnerò ci penserò ok perfetto io ho finito pesco 5 di fiori autunno ma così all'improvvisa quando arrivano arrivano suddenly a wild party arrives sono estremamente incerto voglio dei cattivi voglio dei cattivi immediati ok una piccola gang di assassini si sta facendo trada nell'isola quanti sono e quali armi portano con loro la ciurma della nave effettivamente sbarca sull'isola sono una ventina scarsa ma non hanno armi eccessivamente pericolose sono solo le loro intenzioni a esserlo hanno fatto una sorta di piccolo campo provvisorio nella parte superiore dell'isola aggiusto i dadi quindi questo progetto qui ammetto che ah è l'indagine questa ok si 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 e finisce l'esplorazione tanto anno finisce l'esplorazione e degli sciacalli scopriamo cosa scopriamo degli sciacalli beh scopriamo che sono tutti morti bella sono tutti morti in un luogo come dire un luogo lontano dal loro villaggio nell'isola e e niente sono tutti là è passato anche molto tempo ormai quindi li troviamo in condizioni che sono quello che sono non abbiamo ancora idea di cosa questo voglia dire però sono morti di morte violenta ok questo è fine all'esplorazione io do vita a un progetto dato ciò che sta venendo scoperto e date le minacce che sembrano poter arrivare dal mare voglio convertire il farro in un'arma il farro laser esattamente per capire il punto di situazione per adesso noi abbiamo armi personali ma non abbiamo mai attirato il cannone grosso giusto esatto è stato proprio convertito a una sorta di generatore ok voglio proprio invece convertire il farro in un'arma manterrà anche la sua funzione di faro ma si sarà un comodo switch click click vogliamo segnalare o affondare il collegamento elettrico ce l'abbiamo già considera questo per la durata del progetto esatto e abbiamo già utilizzato l'energia sia per fare delle armi maneggevoli portatili che per dei motori ok quindi secondo me in 3 o 4 settimane ce la facciamo si tra 4 ci sta ok that's it tocca a me carta questo marrone delle carte d'autunno è molto inquietante le malattie si diffondono nella comunità scegli uno tra spendi la settimana con quarantene e trattamenti per le malattie i progetti non sono ridotti per questa settimana oppure nessuno sa cosa fare riguardo a questo aggiungi cure e fertilità con una scarsità abbiamo i sali guaritivi quindi mi sembra strano aggiungere una scarsità e invece sappiamo come farla ma ci mettiamo ma ci mettiamo tempo per trattare tutti quanti aggiungo che ci sta che tutti quanti dicano che sono le malattie che hanno importato quelli che sono arrivati via mare quindi quindi non devo aggiustare dadi per questo turno ma apro una discussione a questo punto sulla base di quello che è venuto fuori nell'isola degli sciacalli e affermo che gli sciacalli sono morti finché tentavano di riattivare l'arma e dovremmo stare cauti nel giocare con l'energia chi è che va adesso? Nilo ok no secondo me gli sciacalli sono stati uccisi dagli stessi invasori che ci troviamo sulle nostre coste adesso dunque non li abbiamo chiamati non sappiamo chi sono però c'è una parte che crede che no no le armi vanno continuate a sviluppare e se no finiamo come gli sciacalli secondo me nessuna delle due opzioni è vera e semplicemente ci sfugge un pezzo fondamentale per interpretare la situazione ok il puntino lo disegno quindi da qualche parte sui sciacalli penso questo discorso era su loro qui in realtà su quello che abbiamo scoperto lo metto sulla nave che è andata in esplorazione anche e ho finito strago vai ok allora cos'è il joker questo un progetto finisce prima quale perché se non ci sono progetti si crea dell'animosità e l'animosità crea della violenza chi è che si fa male e no se c'è un progetto mi sa il progetto del faro è il progetto del faro laser dunque a te Dario spiegare perché lo spieghi tu lo spiego io la carta è tua ok lo spieghi perché prima la gente effettivamente abbiamo appena fatto questo discorso che la gente come si si è attivata per finire le armi prima questa è un'altra arma si sa che le tecnologie prima di tutto vengono dal bellico dunque qualsiasi cosa che si inventa che si fa prima c'è un'applicazione bellica poi tutto il resto e questo non è un'eccezione e dunque finisce prima il progetto del faro ma non so se finisce bene o male quello è Dario che deve decidere guarda banalmente finisce bene abbiamo investito mesi praticamente nello studio e nell'applicazione dell'energia con i dovuti fallimenti lungo le settimane e le giuste calibrazioni alla fine si ottiene effettivamente un'arma a medio raggio che probabilmente serve a uno scopo molto simile a quella che serviva originariamente il generatore e si alla fine praticamente abbiamo traslocato dei pezzi da lì a là e funzionano ok ah c'era anche l'altro progetto quello delle quello delle delle investigazioni dove sono finite le persone però comunque mi sa che devo abbassarlo giusto si ok manca ancora un turno per capirlo e devo fare un'azione domanda io che scopro qualcosa di nuovo deve essere necessariamente una fattezza geografica o può essere un fatto allora cioè posso semplicemente introdurre un nuovo elemento deve essere anche un fatto cioè tipo un esempio del manuale ce l'ho aperto qui dice strani rumori come dire strani ululati vengono dalla foresta di notte è un fatto che viene scoperto ok allora il fatto che viene scoperto è che in tutto questo trambusto è fuggito il il naufrago quello che abbiamo torturato e sembra che sia le tracce che ha lasciato portano verso all'accampamento di quelli che hanno appena sbarcato sulle nostre coste degli invasori giusto per chiudere questo cerchio bello e disegno delle tracce ci provo e ho finito ok per prima cosa pesco 9 di fiori autunnale la comunità lavora costantemente e come risultato si finisce un progetto presto oppure un gruppo si dirige a esplorare più approfonditamente la mappa e trova qualcosa che era stato inizialmente sottovalutato bello il progetto finisce così così dunque è infatti infatti il progetto non vale la pena quindi è un qualcosa che era stato sottovalutato secondo me ricordami Antonio lo scavo della caverna ci aveva portato a trovare della tecnologia e no ci aveva portato a trovare dei complessi di grotte con dei segni di attività umane statue e poi non si è mai indagato se c'era anche della tecnologia o cosa infatti è stato totalmente ignorato è stato lì e vabbè chissene ok beh direi che il complesso viene esplorato si rivela essere molto più grande e vi sono tracce di questa chiamiamola tecnologia per comodità uguali a quelle trovate tra il cerchio magico l'altro cerchio magico tracce della tecnologia dimenticata ok il complesso lo segnalo con delle invadentissime linee quindi tipo una cosa che è proprio sotto tutta l'isola sì esatto per quanto riguarda i dadi finisce il progetto di Nilo per la ricerca ok le sparizioni sono state una coincidenza con quelle degli sciacalli quello che è successo sulla nostra isola che certi elementi forse neanche la ragazza stessa quella che ha fatto partire un po' il culto dei sali e cose del genere del vulcano certi elementi effettivamente hanno preso delle persone e le hanno sacrificate nel vulcano e poi è arrivata la tempesta dunque esatto nel senso sì sono sparite perché sono stati sacrificati ok è vera questa verità che fortuna ok per quanto riguarda l'azione faccio partire un progetto perché la giovane è convinta che attraverso le gallerie possa arrivare a incontrare il vulcano un giorno riuscirò a non creare linee ogni volta quanto ci mette secondo voi? secondo me due settimane ci potrebbe stare una o due è un bel dedalo quello che hai disegnato probabilmente può ci mettere però si concentrerà sulla parte del vulcano probabilmente ma solo lei o anche i suoi fedeli? anche i suoi fedeli me li immagino domanda prima di farlo si sottoporranno tipo a riti di purificazione sniffate collettive di allucinogeni cose così perché potranno metterci anche molto di più insomma io ci metterei un due settimane anzi facciamo un tre se siete d'accordo perché c'è questa strana commissione di religione e tecnologia per cui si preparano delle armature per resistere alla pressione della lava fumano incensi strani quindi c'è tutta questa scienza mista si mettono le penne colorate degli uccelli esatto sono dei cazzari sono dei cazzari infatti cioè appunto magari una settimana ci mandavi una squadra di ingegneri però questi stanno lì a dire no ma oggi l'uccello ha cantato prima del sorgere del sole quindi oggi no hai tre settimane che indicano una settimana di cazzeggio religioso una di scienza e una di esplorazione praticamente ok ci sta ci sta e abbiamo etichettati questo secondo me crea un po' di zarmonia perché sarebbe il tempo di stare uniti mi so chi stiamo affrontando mentre questi se ne vanno a delirio mistico praticamente ok gente di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti potete rimanere in contatto con questo progetto su facebook instagram e alla mail gentediruolo chiocciola gmail.com per commentare criticare chiedere e suggerire sarete sempre benvenuti se questo progetto vi piace fatemelo sapere fatelo conoscere date una mano a diffonderlo ma soprattutto fatevi un favore non smettete mai di giocare